La voce del gruppo Cardiamundi, adesso Russo, alle percussioni! Grazie, ricordo che il nostro disco è disponibile, chi volesse ascoltarlo, acquistarlo, ci possiamo vedere anche qui. Dietro al palco c'è la nostra tour manager, vi chiedo un applauso anche per lei, Federica Taggiula, che ci segue sempre, pura gli aspetti della promozione. Allora, qui una domanda, arriva l'aria adriatica o ionica? Adriatica! Adriatica, bene. Ma è strale, ma qualcuno dice, mi entra nel microfoni parolatici? Vabbè, allora, ora riportiamo un po' di aria, così, a modo rosso. Allora, dentro c'è una richiesta, c'è solo una condizione da ottemperare, cioè che dovete zumpare, sennò poi noi non la sogniamo questa. Romani? Romani! Romani? Rosso! ma canta, canta Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.